Ciao a tutti da Mupin Clinic. In questo video ripristineremo strutturalmente ma soprattutto esteticamente questo vecchio VIC-20 Commodore, o meglio questo VIC-20, cioè la versione tedesca del VIC-20. Quindi sostanzialmente lo puliremo, poi sistemeremo alcuni problemi interni, strutturali, cioè tenuta di viti come vedremo dentro, che non riescono più a mantenere ferma e in sicurezza la scheda madre. E completeremo il processo con un intervento di Retrobrite, cioè si tratta di un processo chimico che permette di ripristinare la tonalità originale del computer, che come potete vedere nel caso di questo VIC-20 è molto ingiallito con il tempo. Una precisazione, visto che non a tutti piace il concetto di effettuare il Retrobrite perché sembra che indebolisca le plastiche, questo computer non è stato donato all'associazione Mupin, è un computer di mia proprietà, l'ho preso banalmente su eBay. Questo lo sottolineiamo appunto per rassicurare tutti che i computer che vengono donati all'associazione Mupin non subiscono, se vogliamo, questo intervento, ma vengono mantenuti, vengono naturalmente puliti, ripristinati, riparati se necessario, ma vengono mantenuti nello stato in cui si trovano, quindi senza effettuare interventi chimici. Il Retrobrite piace a molti, io sono tra quelli personalmente, infatti lo effetto sui miei computer, quelli della mia collezione, ma non viene effettuato sui computer donati, proprio per evitare qualsiasi tipo di danno. Ora andiamo a vedere cosa faremo per ridare un aspetto, non dico da negozio appena comprato, ma molto vicino a quello con questo VIC-20. Allora, incominciamo a vedere le condizioni generali dei computer, come detto, a parte la sporcizia, è relativamente esternamente solido, anche se qua abbiamo un po' la scocca aperta, e vediamo già qui, a parte i rumori di viti che sentiamo all'interno, vediamo la scheda madre che è storta all'interno della scocca sostanzialmente. Sul retro, sulla parte inferiore, abbiamo per fortuna ancora le tre viti, che tengono la scocca chiusa, e qua ci sono altre due viti che ho raccolto prima, perché sennò sarebbero perse, che sono quelle interne, che adesso andiamo a vedere come mai non stanno più nel loro alloggiamento. Andiamo ad aprire il computer e troviamo subito al suo interno quello che ci aspettavamo, cioè la scheda madre completamente distaccata dal suo alloggiamento della plastica. Allora, andiamo a staccare la tastiera, che sostanzialmente è lo stesso sistema in uso sul Commodore 64, c'è questo connettore lungo che è sufficiente a staccare e si rimuove senza problemi. Stesso discorso per il led di accensione, e la nostra tastiera è completamente staccata, la possiamo metterla qua da parte. E questa è la situazione che ci troviamo. La scheda madre è abbastanza in buone condizioni, infatti abbiamo già verificato che è funzionante, soprattutto che abbiamo queste viti che vanno avanti e indietro, eccola qua, un'ulteriore vite che si è staccata, la mettiamo qua da parte e andrà insieme con le altre sue sorelle. A questo punto la scheda madre è tenuta insieme da una sola vite, che è questa, che tiene ancora, infatti anche questa vite che c'è in fondo è ormai staccata, non è inservibile. Andiamo a staccarla completamente in modo da capire meglio come risolvere il problema. Ecco l'alloggiamento inferiore del computer, che è tutto sommato in buone condizioni, purtroppo i punti in cui dovrebbero agganciarsi le viti non funzionano più, a parte questo appunto, che è rimasto ancora in funzione. Questo infatti è rotto, è spaccato, anche questo, il secondo, e questo ultimo sembrerebbe quasi sano, ma in realtà probabilmente non funziona comunque. Possiamo anche testarli questi, allora i primi due non è neanche il caso di provarli, perché uno e due hanno un taglio qua, sono completamente rotti. Vediamo il terzo qui, se in qualche modo funziona. Sembrerebbe tenere questo, quindi potrebbe essere papabile per essere ancora utilizzato. Già due funzionanti. Allora, adesso la prima cosa che andiamo a fare è una bella pulizia, semplicemente con acqua e sapone della plastica, e torniamo qui tra poco. Allora, rieccoci qua con la nostra plastica ripulita, che adesso ha decisamente un altro aspetto, molto migliore, l'abbiamo pulita anche sopra e sotto, si presenta decisamente meglio. Purtroppo ho appena provato ad avvitare la scheda madre con i vari punti di disposizione per le viti, e vi confermo che sono praticamente tutti inservibili, a parte i primi tre, in sostanza, che per il momento tengono ancora ferma la scheda. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a utilizzare adesso una resina epossidica, questa prodotta da Bosti, che ce ne sono moltissime in commercio, è a bicomponente, quindi i due fluidi si mischiano nel momento in cui la vogliamo utilizzare, che è una specie di colla, piuttosto morbida, che può essere d'aiuto in questi casi. Andremo a riempire, e in qualche caso, come in questo, che è completamente rotto a metà, a ricostruire, per come potremo fare, l'alleggiamento per la vite, poi lasceremo asciugare, e speriamo che le vite a quel punto riusciranno a pescare meglio dal buco, avere un certo grip, per riuscire a mantenere ferma la scheda madre, appunto sfruttando i primi tre, almeno sopra, e alcuni di questi punti di aggancio, sperando appunto di metterla di nuovo in sicurezza. Questo è il mio mini banco di lavoro sporchissimo, per quando utilizzo la colla epossidica, che lascio sempre, per forza ricorda, dei residui. Andiamo ad aprire, facciamo uscire i due bicomponenti, come al solito, mi esce soltanto quello di sinistra, non quello di destra, infatti sono già attrezzato per tappare quello di sinistra, e facilitare l'uscita di quello di destra, ecco qua. Andiamo a mischiare insieme, adesso chiudiamo subito il tubetto, per evitare problemi. Andiamo a mischiare il tutto. La resina epossidica si comporta in un modo diverso della colla, si tende ad indurire già leggermente mentre la si mescola, e poi ad un certo punto diventa in modo molto repentino, solida. Quindi incominciamo già ad iniziare ad applicarla, ma almeno nei punti in cui sappiamo comunque che abbiamo ancora la forma dell'alloggiamento, sperando che questo aiuti sia a tenerlo insieme, per appunto per evitare che si rompa ulteriormente, come è successo in questo caso, nel primo che si è rotto a metà, e fornisca anche appunto un punto di aggancio per la vite, nel momento in cui la andiamo ad inserire, quando andiamo ad avvitarla. Ci occupiamo prima di quelli che sono ancora in piedi, diciamo, di... ...bucchi che sono ancora completi, perché tra pochi attimi la resina incomincia a diventare un po' più rigida, un po' più densa, e quindi ci potremmo permettere di utilizzarla per ricostruire o tentare comunque almeno... fare almeno un tentativo di ricostruzione di quello completamente rotto. Ok, cerchiamo di fare un tentativo di ricostruzione, adesso siamo un po' più sul denso, quindi possiamo iniziare a cercare di chiudere... ...fare una specie... ...facciamo una specie di... ...di bolla... ...esterna... ...sperando che si... ...diventi poi possibile... ...in un certo senso bucarla per... ...farci scorrere la vite dentro... ...e quindi che rimanga... ...rimanga bloccata... ...una volta che la resina sarà completamente... ...indurita. Ecco fatto. Adesso lasciamo qui... ...ad asciugare, non ci vuole molto tempo... ...circa una mezz'ora... ...dorrebbe essere sufficiente per avere... ...la resina... ...parzialmente asciutta... ...comunque già utilizzabile... ...con la sua... ...la sua... ...forza meccanica. Nel frattempo... ...ne approfittiamo per dare una spolverata... ...alla scheda madre... ...che non è poi messa malissimo... ...c'è uno stato normale di polvere... ...facile da rimuovere. Vi consiglio di utilizzare un pennello... ...in questi casi... ...perché con le schede elettroniche... ...como in questo caso... ...hanno tanti... ...tanti punti in cui si può bloccare... ...il qualsiasi panno... ...con il pennello... ...se non è troppo impiastrato il tutto... ...si rimuove la polvere... ...senza fare particolarmente fatica... ...senza incastrarsi in tutte le saldature. Andiamo a rimpiazzare la scheda madre... ...e proviamo ad avvitarla... ...nuovamente sperando che il giochetto... ...abbia funzionato. Partiamo da avvitare le viti... ...quelle più difficoltose... ...quelle che siamo andati a riparare... ...che abbiamo cercato almeno di riparare... ...sperando che abbia funzionato appunto... ...e avvitiamo con molta cura... ...più che altro senza sforzare troppo... ...e senza andare troppo veloce... ...e sembra che avvitando... ...vi posso dire che avvitando... ...sembra che... ...abbia quella forza di aggancio... ...che prima mancava completamente... ...quindi... ...mi farebbe pensare che... ...il sistema abbia funzionato. ...era messa relativamente bene... ...quindi... ...mi aspetto che si è avviti... ...aldrettanto bene... ...comunque meglio di prima... ...sì... ...sembra avvitarsi... ...anche in questo caso... ...bene cioè... ...arriva a fine corsa... ...e... ...si blocca... ...fa resistenza... ...tiene... ...sì... ...dovrebbe tenere... ...infine la terza... ...anzi... ...non infine... ...perché c'è ancora quello in alto a destra... ...ma... ...questa era quella peggiore... ...quella di cui non rimaneva praticamente... ...nulla... ...del... ...del cerchietto di plastica... ...che era rimasta a metà... ...quindi qua... ...andiamo ad avvitare sul... ...nulla... ...praticamente sul... ...semplicemente sulla... ...resina... ...che adesso è... ...indurita... ...però... ...sembra anche in questo caso... ...tenere... ...il tutto sembra piuttosto solido... ...andiamo a cercare... ...ecco... ...che avrebbe mai detto... ...si solleva... ...e... ...regge... ...sollevandola direttamente dalla scheda madre... ...ottimo... ...posizioniamo anche le altre due viti... ...quelle non avevano problema... ...tengano... ...tranquillamente ancora... ...vediamo se si solleva... ...sì... ...tutto... ...sembra apposto... ...la nostra scheda madre adesso è di nuovo... ...salda... ...nel... ...nel... ...nel suo case... ...andiamo a fare la... ...cosa più classica e più noiosa... ...di questo tipo di ripristi... ...ehm... ...stacchiamo tutti i tasti della tastiera... ...e andiamo a pulirli... ...ehm... ...normalmente... ...faccio una... ...una fotografia della tastiera... ...per poi poterla... ...rimontare velocemente... ...in questo caso... ...non c'è neanche bisogno... ...perché il Vick 20 è talmente... ...diffuso che basta... ...eh... ...cecare un attimo su Google... ...le immagini di una qualsiasi tastiera... ...come questa... ...per poi... ...eh... ...quindi dobbiamo andare a staccarle tutte... ...e... ...conviene farle in ogni caso... ...perché... ...ci rende tutto molto più agevole... ...eh... ...poi... ...lavorare... ...e dare una pulita generale... ...alla struttura interna... ...una volta rimorse tutte le viti... ...la tastiera viene via... ...tranquillamente... ...con la sua struttura... ...eccola qua... ...possiamo togliere di mezzo... ...per ora... ...la scocca superiore... ...che poi riprenderemo più tardi... ...siamo pronti a lavorarci... ...ed ecco qua la nostra tastiera... ...che è... ...parecchio impolverata... ...quindi lo andiamo intanto un po'... ...a tamponare... ...con un swiffer... ...adesso uno a uno... ...stacchiamo... ...i tasti... ...con... ...utilizzando questo... ...io utilizzo questo estrattore... ...che normalmente si usa per... ...i microchip... ...per estrarre i microchip... ...dall'alloggiamento... ...bisogna andarci molto piano... ...per evitare di... ...rovinare le plastiche... ...ovviamente... ...e in questo video... ...stupisce sempre... ...la quantità di... ...polvere... ...ma... ...poi si tratta... anche di pezzettini di pelle morta che si stacca e rimane attaccata ai tasti e sotto di essi e qua non ce n'è neanche tanta considerato l'età di questo computer il risultato da sempre una certa soddisfazione vedendo la differenza come era prima per quanto riguarda i tasti di solito utilizzo un sistema assolutamente banale con normale normale sapone per i piatti che ha una buona azione sgrassante un po' di sapone per i piatti messo in acqua calda e ci buttiamo dentro i nostri tasti che sono davvero molto impolverati possiamo lasciarli qua qualche minuto in modo da far ammorbidire un po' il grasso e far staccare la polvere adesso andiamo a fare quella che è veramente una delle cose più noiose in assoluto della pulizia di un qualsiasi computer dotato di tastiera quindi praticamente qualsiasi computer che era la pulizia potremmo dire ancora e l'asciugatura finale dei tasti che va fatta una a uno purtroppo il tasto viene preso viene un po' strofinato viene un minimo asciugato almeno parzialmente ed eccolo qua riveduto così per tutti i tasti del RIC20 che per fortuna non ha il tastino numerico qualche tasto in meno in questo caso ora rimettiamo tutte le molle al loro posto sono tutte uguali l'unica che fa eccezione è quella della barra spaziatrice che è un po' più alta anche i tasti hanno avuto un bel cambiamento sembrano quasi nuovi come sono adesso li andiamo a riposizionare è molto semplice è molto più facile rispetto a staccarli basta premere e entrano nel loro alloggiamento in modo molto netto quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista ecco la nostra tastiera a parte qualche righetta su cui non posso fare niente e adesso ha tutto un altro aspetto decisamente ora ci rimane soltanto la parte dedicata a retrobrite cioè cerchiamo di far tornare bianche queste plastiche ingiallite molto ingiallite vediamo cosa riusciremo a fare con un po' di chimica la tecnica è quella classica utilizziamo acqua ossigenata ad alta concentrazione al 12 per cento come si vede in tanti tutorial su internet abbiamo questa tanica da 5 litri abbiamo questo contenitore questo un banale contenitore di plastica attorno a quello ho messo soltanto un po' di carta alluminio per riflettere ulteriormente e sopra c'è questa pellicola per evitare troppa evaporazione del liquido durante la posa utilizzo poi queste due due riflettori da 50 watt led a luce ultravioletta sono molto potenti per questo utilizzo la tecnica è sempre quella dicevamo quella che si trova un po' dappertutto prendiamo il nostro la nostra acqua ossigenata la versiamo all'interno del contenitore integralmente in questo caso sono 5 litri di acqua ossigenata al 12 per cento e vi raccomando di indossare sempre per una protezione soprattutto sugli occhi quindi potete mettere tranquillamente degli occhiali che hanno indossato già normalmente per evitare che qualche schizzo di finisca negli occhi perché è molto pericolosa l'acqua ossigenata già normalmente e soprattutto questa che ad alta concentrazione quindi versiamo in tutto all'interno di questo contenitore eccola qua qua è versata sembra poca ma sono comunque 5 litri sembra poca perché il contenitore abbastanza grande questa è la nostra scocca che ormai conosciamo molto bene e l'andiamo ad immergere nell'acqua ossigenata ecco fatto non copre completamente io solitamente inserisco degli oggetti in questo caso delle bottiglie d'acqua chiuse per fare un po più di volume e far alzare i livelli poi con questo è il mio sistema un po' artigianale piazzo questa questo appendino un po' allungato per fare da griglia per potermi dare l'appoggio per posizionare al di sopra del tutto i due riflettori i due illuminatori a luce ultravioletta che dovranno rimanere lì per diverse ore li mettiamo tranquillamente appoggiati così tanto il dissipatore nel caso di questi riflettori si trova dietro quindi può tranquillamente disperdere il calore generato calore che non è poi pochissimo pure essendo led perché sono comunque led a 50 watt come vedete erogano anche parecchia luce infatti hanno una buona resa in per quanto riguarda il processo di retro bright in un numero relativamente limitato di ore eccoci sono passate circa otto ore è passata la notte e adesso è il momento di andare a vedere il risultato andiamo a spegnere finalmente le due luci e andiamo a rimuovere il tutto quindi le togliamo di mezzo e appoggiamo lateralmente perché poi ci serviranno di nuovo andiamo a scattare il tutto e già si può intuire anche se qua la luce è un po' gialla anch'essa che la situazione è già tutta un'altra le spettacole di ieri ecco qua ora si capisce che il colore ecco vedete il colore all'interno che non è ingiallito corrisponde praticamente del tutto a quello esterno andiamo a vederla magari ad una luce un po' più naturale per capire meglio il risultato eccola qua e beh il confronto con la parte inferiore è eloquente c'è davvero una differenza notevole tra la parte ingiallita ancora ingiallita ancora da trattare e quella che abbiamo appena estratto e sciacquato con un po' di acqua normalmente c'è ancora vedete qualche piccolissima striatura ma non andiamo a esagerare per evitare di rovinare troppo la plastica ed adesso siamo costretti a svitare una cosa che avremmo dovuto fare questo anno di poi l'avrei dovuto fare dopo la ricostruzione del degli alloggiamenti per le viti siamo costretti adesso a svitare sperando che non si rovini troppo e non perda la buona tenuta che aveva sulla scheda madre al limite andremo a rifare poi il lavoro se sarà necessario e perché dobbiamo togliere la scheda madre per trattare la parte della scocca inferiore togliendo le viti non sembrano essersi creati particolari danni adesso qua nelle immagini non si vede molto bene però gli alloggiamenti sono rimasti intanto intatti per fortuna e speriamo che lo rimarranno anche dopo aver passato dopo aver passato le ore in immersione che aspettano anche questa parte della scocca la scocca come vedete è comunque altrettanto ingiallita come la parte sopra quindi merita di essere trattata come è stato appena fatto per la parte per la parte superiore in questo caso non c'è un particolare problema di immersione perché è più bassa siamo pronti per questo secondo giro riposizioniamo gli illuminatori così come abbiamo fatto ieri andiamo a riaccendere il tutto e facciamo passare altre 8 o 10 ore ed è quelle passate e andiamo a vedere se il risultato che abbiamo ottenuto è al pari di quello che abbiamo avuto per la prima parte per la scocca superiore qua ho posizionato una bottiglia in questo caso ho applicato per tenere bassa e immersa la scocca che tendeva un po' a galleggiare sembra che sia quasi uscita meglio della parte superiore guardate non mi sembra di vedere la minima striatura in più tutte quelle tracce che avevamo prima sono completamente scomparse non c'è più un'ombra di ingiallimento il colore corrisponde adesso abbiamo la prova che le due tonalità sono sono paragonabili adesso è l'ora della prova del 9 perché dobbiamo andare a riavvitare la scheda madre negli alloggiamenti che nel frattempo hanno subito anche loro anche se erano dall'altra parte comunque hanno subito l'immersione per circa 10 ore in questo caso nella acqua ossigenata ad alta concentrazione intanto andiamo ad avvitare prima le viti note quelle che sappiamo che funzionano bene già di loro speriamo di continuare a funzionare per quanto riguarda quelle che avevamo ricostruito andiamo sempre con molta molta cautela sperando di non andare a trovare un trovare un deterioramento dato dal nostro trattamento chimico che nel frattempo speriamo che non abbia avuto particolari particolare impatto e per fortuna sembra di no anzi sembra quasi addirittura più solida di prima ci è andata bene vi evitiamo anche la tastiera che in questo caso non ci dovrebbe riservare particolari sorprese perché gli alloggiamenti e le viti sono molto lunghi sono anche in buone condizioni rispetto a quei piccoli della scheda madre quindi non ci aspettiamo particolari problemi andiamo semplicemente a riappoggiarla e riavitiamo il tutto ecco finalmente la tastiera realitata adesso andiamo a riassemblare il tutto ormai ci rimangono veramente poche cose da fare abbiamo soltanto da rimettere insieme le due parti le due scocche per fortuna ci sono solo due cavi da attaccare che sono uno il led di accensione che non mi ricordo mai da che parte si metta sarà così tanto non si rischia niente perché al massimo non si accende se non diodo il led non si fanno danni e poi ricolleghiamo la tastiera anche in questo caso non possiamo sbagliare perché si può inserire solo in un modo perché c'è un pezzettino di plastica in più nell'altro senso che non ci permette di collegarla no mi sa che è nell'altro verso scommettiamo su questo ecco fatto ancora tre viti da mettere qua sulla parte posteriore e abbiamo finito le condizioni delle plastiche sembrano ancora eccellenti ecco il nostro pick 20 beh ha tutto un altro aspetto rispetto a prima in più è solido non c'è più rumore di viti che vanno in giro per il case è tutto dritto le due parti corrispondono come una tonalità di colore sembra essere andato tutto bene possiamo andarlo a testare di nuovo e vi avevo raccontato prima di iniziare il tutto che il computer funzionava beh questa è la prova scusate se si vede molto poco dato per vedere il refresh dello schermo ma come vedete funzionava e funziona ancora per fortuna questo vic 20 funziona senza nessun problema lo proviamo anche con una cartuccia abbiamo avenger che in realtà è sostanzialmente un clone di space invaders proviamo per scrupolo accendere e funziona anche lui eccolo qua in questo caso non si vede molto bene però si si intuisce la schermata di space invaders che gira ed eccoci arrivati alla fine di quello che non è stato esattamente un tutorial più che altro un diario di bordo di questo tutto sommato semplice intervento di ripristino estetico e strutturale di questo vic 20 che adesso è un po più bello di prima sicuramente e a questo punto non posso fare altro che ringraziarvi per aver assistito al video e darvi appuntamento ai prossimi video che posteremo nel nostro canale di mupin museo piemontese dell'informatica quindi non dimenticatevi se siete interessati di iscrivervi al canale per sapere quando usciranno quando provvederemo pubblicare i prossimi video quindi per il momento grazie a tutti e a presto